Katia, Katia, aspirante modella, beh se abiti sul web 2.0 e scopri il mondo intero, io navigando su Twitter scopro le cose più belle, ho scoperto anche il profilo Twitter di Katia, la quale come professione ha scritto aspirante modella, allora si capisce per quale motivo gli uomini occidentali dell'Europa avanzata vanno tutti a trovare una moglie in Romania, in Bielorussia, in Ucraina, perché qua nel nostro occidente le donne non aspirano più a fare le mogli, fanno come Katia, sono aspiranti modelli, poi magari diventeranno modelli, beh cari amici c'è un mio antico video dove io vi spiego che cosa ha fatto il governo in Romania dopo la caduta del muro, dopo la caduta del muro la Romania si è attrezzata ed è diventata il più grande serbatoio di allevamento delle mogli e provate un po' a guardare il video che vi metto come digna riassulta di questo video, il trato è Romania dove si fabbricano le mogli e così capirete per quale motivo noi poveriti non la troviamo più una moglie qua in occidente, dobbiamo andare in Romania o in Ucraina o in Bielorussia, per esempio è questo di Katia per esempio, Katia aspirante modella, ok cari amici è una bella ragazza Katia però non ci viene a fare la moglie vuol fare l'aspirante modella, va bene cari amici grazie e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni